il focus group strutture lo scorso quadriennio è stato il primo del focus group strutture non esisteva ce lo siamo un pochino inventato fondamentalmente abbiamo avuto fondamentalmente un osservatorio sulla normativa che continueremo in quest'anno siamo in attesa delle emissioni delle nuove norme tecniche per le costruzioni la versione precedente 2008 è un paio di anni che dicono che dovrebbero essere messe sembra che entro a fine di quest'anno inizio del prossimo saranno emesse abbiamo avuto lo sportello strutture risposte ai quesiti da parte di tutti gli iscritti che viene fatto tramite il portale del nostro ordine abbiamo acquistato dei software strutturali sono fondamentalmente tre e quest'anno questi software saranno resi disponibili a tutti gli iscritti che potranno quindi utilizzarli all'interno dei dei locali del dell'ordine abbiamo poi fatto nel quadriennio scorso e proseguiremo in quest'anno delle collaborazioni col focus prevenzione incendi e col focus restauro per quanto riguarda prevenzione incendi sulla parte di la resistenza delle volte in muratura fuoco resistenza fuoco di strutture in legno col focus restauro sulle normativa la normativa parte strutturale parte legata al restauro del decreto bimac prossimo quadriennio stiamo organizzando anche dei corsi di formazione iniziamo subito col secondo semestre 2018 avremo un corso che avrà come obiettivo formare gli iscritti sulla resistenza degli edifici sulle azioni sismiche l'analisi del quadro fessurativo e poi la verifica del danno questo sarà fatto principalmente dai componenti del focus protezione incendi